Quali sono i due primi step per costruire un modello di business solido? Questa è una domanda che mi viene fatta tantissime volte perché giustamente ci si chiede ok io devo costruire un business model ma da dove parto? E un grande errore che si fa è partire dall'analisi del target un altro grande errore è partire dal proprio servizio facciamo degli esempi io sono un insegnante di piano il business model deve partire dal mio servizio da quello che insegno da come lo devo strutturare? No assolutamente no oppure sempre sono un insegnante di piano devo partire da studiare il mio target no assolutamente no neanche questa soluzione facciamo molta attenzione perché per costruire un modello di business bisogna partire da una sola cosa le competenze quando si parla di target specifico perché ripeto il modello di business serve per costruire un servizio sostenibile per un target estremamente specifico più il nostro target è specifico più il nostro modello potrà risultare differenziante verticale e sostenibile ok e questa è già una considerazione particolare perché uno potrebbe dire ma come se io riesco ad attrarre varie classi di target di conseguenza posso generare molti più clienti e molto più fatturato no no perché più il nostro servizio è dispersivo nei business attuali e peggio è questo perché noi siamo passati da un business di prodotto del passato a un business di servizio ma attualmente parliamo proprio di business di micro servizi guardiamo la produzione oggi il tuttologo colui che ti fa arrangiamento produzione artistica pre-produzione produzione post-produzione faccio tutto io sta avendo grandi difficoltà perché perché nel sistema attuale dei micro servizi più una persona è verticale su un qualcosa pur avendo competenze anche secondarie in altro più riesce a posizionarsi facciamo occhio a questa parola posizionamento ok noi dobbiamo entrare nella testa del nostro target da una porticina deve essere estremamente specifica perché questo ci permette di essere posizionati come l'unica persona l'unico servizio di riferimento nella testa di quel target lì questo è il posizionamento come veniamo posizionati nella mente del target quindi più siamo dispersivi e più il problema è la capacità di posizionarci nella sua mente perché diventiamo troppo complicati dal punto di vista del servizio troppo orizzontali invece dobbiamo puntare verticale oggi infatti si pensa che la promozione sia ancora un modello il cui bisogna raggiungere più persone possibili no attualmente con i nuovi modelli di promozione noi dobbiamo raggiungere meno persone possibili ma le persone più giuste possibili in maniera estremamente specifica e dar loro massimo valore questo riguarda anche e soprattutto il servizio artistico non solo gli altri servizi perché tu magari sei artista mi ascolti e dici vabbè ma io sono un artista invece il mio obiettivo è andare a prendere più persone possibili questo accadeva in passato oggi devi andare a prendere quelle persone giuste soprattutto se sei un artista emergente ricordiamoci che il modello di business di un artista emergente di un artista posizionato e sono due modelli completamente diversi l'artista emergente deve entrare nel mercato deve entrare da una porticina deve essere più specifica possibile ma quindi qual è il primo step? il primo step sono le competenze cosa significa competenze? anche qui crolla il castello perché perché si pensa facciamo l'esempio del produttore artistico che competenza è quella di saper produrre sì ma cosa? quale genere? quale sottogenere? all'interno del mio ciclo produttivo in cosa sono più forte rispetto al resto? cosa faccio nel pratico? ascoltare le reference la capacità di entrare in empatia l'utilizzo tecnico di alcune catene di automazione piuttosto che altre in base al genere specifico la mia capacità di scrittura banalmente più della sezione ritmica o la sezione armonica e così via la mia attrezzatura che mi permette di fare A piuttosto che B ce ne dobbiamo entrare estremamente in profondità quando parliamo di competenze ok? perché dire sono un produttore artistico dire sono un insegnante di piano insegnante di chitarra sono un ingegnere audio non è una competenza quello è il titolo ma le competenze devono essere molto specifiche perché se noi non siamo estremamente specifici non avremo mai un target specifico non avremo mai una struttura d'offerta estremamente specifica che sono tutti gli altri passaggi per costruire tutto il nostro business model ok? io voglio parlare in questo video di una matrice la matrice del terrore la definisco così perché è una matrice che noi facciamo fare spesso ai nostri clienti ti invito fortemente a fare a applicare da solo prenderti un foglio bianco e disegnare questa matrice la matrice è quella delle competenze versus esperienze quindi tu immagina di avere due colonne ok? dove qui per ogni competenza quindi competenza 1 competenza 2 competenza 3 competenza 4 e via dicendo per ogni competenza tu vai ad assegnare due voti da 1 a 10 1 relativo a il tuo la tua valutazione della competenza ok? quindi io dico banalmente per la mia competenza 1 che ne so sono un produttore artistico sussuonare la chitarra quanto sussuonare perché magari la chitarra mi aiuta nella scrittura dell'arrangiamento quindi competenza 1 è sussuonare la chitarra io ti chiedo da 1 a 10 che voto dai a questa competenza e tu magari mi dici 7 ok? competenza 2 l'utilizzo del software Paperino 8 perché mi si dice lo so utilizzare da tanti anni o sono perfettamente in comfort con quel software e così e così via e qui succedono delle cose meravigliose perché? perché quando bisogna fare un'autovalutazione non c'è mai un balance vero tra la componente emotiva e la componente analitica razionale mai perché la percezione di noi stessi è sempre molto influenzata da tutta una serie di dinamiche ok? e qui cadiamo cadiamo perché non ci rendiamo conto uno delle nostre competenze effettive non facciamo un'analisi fredda delle nostre competenze non abbiamo la percezione di cosa dobbiamo migliorare e cosa no cosa dar priorità e cosa no e così via e quindi ci ritroviamo ma tantissime volte tantissime ad avere magari all'interno di competenze dei numeri molto alti di solito sono sempre maggiori di 7 maggiori uguali a 7 e questo ripeto fa sempre molto sorridere e poi quando chiediamo qual è la tua esperienza in merito c'è un crollo emotivo perché? perché se una persona mi dice io so suonare la chitarra e da 7 e mezzo e poi io chiedo che esperienze hai avuto qualcuno ti ha mai pagato come chitarrista qualcuno ti ha mai pagato per sfruttare la chitarra in determinate produzioni quante produzioni hai fatto utilizzando la chitarra quanti concerti hai fatto utilizzando la chitarra cosa sai fare sulla chitarra punto di vista tecnico armonico e così via quindi da quanti anni suona la chitarra c'è tutta una serie di cose che vanno un po' più su dei numeri analitici e non solo su percezioni emotive del tuo approccio alla chitarra del tuo legame alla chitarra succede che la frase tipica una delle relazioni tipiche è cazzo è vero e banalmente si tende a dare un voto anche in realtà inferiore a quello non dico oggettivo perché non esiste un voto oggettivo ma un voto veritiero tendente a al reale quindi spesso avviene che la prima colonna è la colonna emotiva ok e la seconda è la colonna del terrore perché si passa da un picco spesso di entusiasmo dal punto di vista emotivo nella prima colonna a un picco quasi di autodelusione la seconda quindi sono due picchi emotivi e nessuno dei due va bene cioè non va bene né inserire voti così alti né inserire voti così bassi nella seconda colonna quindi succede sempre noi abbiamo messo insieme tante matrici e abbiamo visto ripeto un esercizio che ti invito a fare e a riflettere su questo che nella prima colonna che è una colonna del primo picco di entusiasmo questo voto di solito va sempre in media maggiore maggiore del 7 un voto tendente in alto verso l'8 verso il 9 verso il 10 mentre nella seconda colonna di solito la media dei voti è sempre minore o uguale a 6 questo cosa significa questi numeri cosa significano stanno raccontando una storia molto particolare cioè il fatto che per costruire un modello di business noi dobbiamo avere estremamente chiaro quali sono le nostre competenze e come possiamo trasformarle in competenze spendibili per far questo dobbiamo avere anche esperienza su queste competenze dobbiamo investirci del tempo dobbiamo investirci in formazione dobbiamo capire quali competenze già rispetto le altre sono davvero a uno step successivo e ci permettono di puntare il mirino a destra piuttosto che a sinistra nel nostro modello di business e soprattutto ci permetti avere un controllo delle nostre competenze che nel tempo devono evolvere perché poi il vero obiettivo del business model qual è? veicolarle all'interno della domanda offerta al mercato quindi se io vedo che ho magari più competenze e so studiare il mercato questo si fa sempre nell'analisi di mercato all'interno del business model in una delle fasi del business model quando analizzo il mercato vado a studiare domanda offerta di quel mercato lì e il mercato musicale dire mercato musicale non serve a niente perché ogni nicchia ogni categoria all'interno del mercato musicale ha una domanda ha più domande offerte specifiche quindi dire mercato musicale non è un'analisi corretta quindi in ogni categoria si avrà bisogno di determinate competenze per andare a colmare a soddisfare quella domanda e soprattutto bisogna andare anche ad analizzare le competenze già esistenti dei competitor in quel mercato cioè che offerte ci sono ok quindi questo ci permette di capire uno effettivamente quali sono le mie competenze due quali sono già spendibili e quali richiedono altro tempo di formazione e tre a quali devo dar priorità perché magari scopro di avere cinque competenze ma che due sono molto più spendibili e le altre o che nessuna di queste è spendibile in questo momento o che lo sono tutte cinque e quindi mi permettono di avere un servizio molto più strutturato una casa molto più strutturata complessa rispetto a quello che pensavo inizialmente e così via quindi vi invito a fare questo esercizio e magari di inviarci la vostra il vostro progetto finale la vostra matrice del terrore con relative considerazioni grazie a tutti grazie a tutti